Ciao, sono Simona e siamo qui in Spazio Lenovo per presentarvi oggi i nostri due nuovi prodotti della categoria tablet P11 e P11 Pro. P11 e P11 Pro sono adatte per tutte le vostre esigenze quotidiane, anche ad esempio studiare e perché no chiamare amici o familiari. P11 e P11 Pro hanno uno schermo 2K per garantirvi un'esperienza multimediale ai massimi livelli. Inoltre P11 Pro offre uno schermo OLED con tecnologia OLED che garantisce colori sempre più vivaci e neri sempre più profondi. Ma P11 e P11 Pro non sono soltanto dei tablet per l'intrattenimento, sono dei tablet che potete utilizzare anche per lavoro grazie alla tastiera e alla penna. Lo attaccate in maniera semplice così e lo utilizzate come se fosse un vero e proprio notebook. Inoltre grazie al sistema di riconoscimento facciale accedervi, è un lampo. Grazie per essere stati con noi e vi aspettiamo qui in Spazio Lenovo.